Ebbene anche il marketing Ikea è entrato nel mondo dei Sint Benvenuti amici di Youtube e benvenuti in questo nuovo video qui ho perso un pacco una cosa che mi ha incuriosito perché c'è un trend nuovo che sta facendosi a Korg per prima e poi dietro a ruota anche Moong che consiste appunto in questi tipi di prodotti andiamo ad aprire così vediamo direttamente cos'è ho mandato sopra una telecamera così potete vedere correttamente che cosa sto facendo apriamo il pacco che mi è arrivato oggi non è sponsorizzato da nessuno questo video ma se volete darmi una mano comunque c'è il link di Musica Store 2005 se questo prodotto vi piace magari potete andare a comprare l'app così date una mano al canale e riesco a comprare queste cose se portarvi sul canale e farvi vedere cose sempre nuove e particolari bene detto questo andiamo a scartare il pacco ragazzi l'ho visto soltanto i reti foto da qualche video che ho voluto vedere qui c'è dove l'ho comprato quindi hanno mandato già una cartolina informativa quindi andremo a vedere il sito di che si tratta se è una cosa interessante magari ve la consiglio signore e signori abbiamo il corg new tech ok nts 1 digital kit ovvero la possibilità di assemblarvi da soli un sintetizzatore c'è una cosa incredibile lo fa anche mug probabilmente se il video vi piace prendo anche il mug e adesso cosa facciamo lo andiamo assemblare io non ho mai fatto una cosa del genere lo andiamo assemblare e poi suoniamo e vediamo come funziona bene c'è un corg software bundle code quindi già solo questo potrebbe valere il prezzo dell'oggetto che costa veramente poco andato a vedere e io mi ero premuti già del mio super tecnologico kit di cacciaviti ma vedo che qui dentro hanno già provveduto a darti quello che ti serve un micro cacciavite ci sono tutti questi pezzi qui abbiamo le istruzioni cavo ovviamente di alimentazione e ovviamente per poterlo collegare al computer interessante questa cosa perché corg è andata oltre ha fatto anche l'arpo odyssey che ve lo montate a casa vantaggio probabilmente sì perché come anche i mobili dell'ikea siccome li montate da voi costano un po di meno qui ci sono tutte le schede quindi adesso andiamo aprirle vediamo un po di che si tratta c'è anche un piccolo altoparlante ci sono degli ingressi c'è una seconda scheda no questo non è la seconda scheda si tratta della tastiera ragazzi questa questa è la tastiera ragazzi che era tastiera veramente e questo è la seconda scheda diciamo integrata con tutti i potenziometri unito al case veramente figo sono proprio curioso di vedere poi alla fine come suona perché ovviamente è un sintetizzatore digitale quindi c'è anche scritto non si potrà pretendere la luna però per il costo che costa penso che averlo con un portatile al giro in mobilità in vacanza possa essere divertente anche con un live per ecco adesso poi quando andremo a provare insieme perché non l'ho mai sentito mai provato vi trovo la mia opinione abbiamo questi pezzi questi altri immagini che servono per rendere stabile la struttura in metallo non c'è altro non c'è un altro e vediamo di assemblare questo sente e sentire come funziona allora innanzitutto questo vedendo che ci sono un sacco di viti di cose andiamo ad aprire questa bustina con il micro cacciavite e le viti e andiamo a prendere le nostre istruzioni vediamo come funziona questa cosa per prima cosa dicono di andare a piegare un po pia questa cosa no cavolo credo che ragazzi che vada proprio rotto è non è che si pieglie credo che vada rotto lo stessa cosa questo se ragazzi va rotto ok mi raccomando come vedete qua prima va rotto quello più esterno per quello più interno se no rischiate veramente poi quando di andare a rompere questi due che li demolite quindi sono inutilizzate già questo ha preso una piegatura che non complementa nulla una volta fatto questo abbiamo tutti i pezzi vediamo che cosa dice di fare questi sono i piedini dei gommini metterò alla fine questo qua e avvitarlo andare a prendere subito le vitine questo qui ok parliamo delle viti quelle piccoline queste e andiamo ad avvitare talmente una cosa figa che sicuramente lo metto proprio nel banco nello studio lo uso veramente ci farò delle cose strane veramente lo attaccherò al pedale del multi effetto della zona sperimenterò cose mai sperimentate veramente da me ok idem bisogna fare questa cosa anche qui ragazzi vedo scritto reverbero di lei cioè vedo ho detto multi effetto mi sa che non c'è filtro cioè ragazzi ma io ho paura accendere questa cosa veramente gliela faremo diciamo che secondo me ho fatto la parte perugnosa mettere queste quattro viti adesso vanno messe quattro viti nere e qui l'aggeggio comincia a prendere forma nella sua tridimensionalità se c'è scritto di lei reverbero filtro e oscillatore c'è scritto questo ragazzi ve lo faccio vedere cioè c'è scritto questo lo vedete c'è scritto questo lo inserisco di 10 migliori sintesi tutti i 500 euro qui siamo sotto i 100 euro dove fallo a questo punto qui dice di andare a installare la tastiera andiamo a a installare la tastiera ragazzi allora qui come dice di installare la tastiera vediamo un po ok fatto questo questo la infiliamo sotto qui dici di metterla per bene dritto però mi sa che ho fatto un buon lavoro perfetto a questo punto dice collegarlo qui sapremo se funziona questa tastiera solo quando lo accenderemo a questo punto praticamente questo va affilato qua ragazzi vediamo un po così perfetto andiamo a unire le due cose perfetto allora piccola cosa dispensa le istruzioni che probabilmente conviene prima prendere la scheda infilarla qui sotto ok e poi dopo andare a mettere questa cosa qua perché vi garantisco che non si riesce veramente a mettere quindi era bene che magari facevano presente questa cosa invece di dire qui in questo punto di mettere quello poi infilare la scheda perché non ci va giù assolutamente vanno incastrati queste cose qua che vedete vanno messe qui ok quindi lo mettete così e si chiude c'è un solo verso non vi sbagliate e questo va messo qui sopra così ok adesso possiamo finalmente chiudere questa cosa ma porca miseria abbiamo partorito un topolino ok vediamo un po se ci va ci va ci siamo no non ci siamo non ci siamo non ci siamo questa cosa mi fa veramente incazzare ragazzi questo è veramente grosso teoricamente bisogna andare a chiudere con quattro viti mi sento di dirvi che sicuramente queste schede non è che sono tagliate nelle dimensioni proprio precise precise quindi andate un pochino a tirare quattro santi del calendario almeno quanta miseria sostanzialmente il lavoro più grosso è chiudere questa scatolina con queste vitine perché in sintetità di per sé stessa sono veramente due contatti e funzionerebbe anche senza scatola questo questo ve lo voglio dire insomma quindi la scatola è relativa ecco adesso mentre sto facendo il montaggio del video interrompiamo un attimo ho capito perché qui forza da morire ho visto da un tutorial qui che queste alette vanno spezzate e tolte della scheda ecco perché non tornava la misurazione quindi andiamo a toglierle una sostanza vedete ho dovuto rismontare tutto quanto perché questi pezzi vanno tolti ecco era quello il problema ragazzi mi raccomando togliete questi pezzi perché non mi passa di vedere che sia stato specificato nelle istruzioni alla fine ho dovuto per smontare tutto quanto e riassemblare tutto e infatti una volta che abbiamo tolto ho riassemblato tutto quanto come potete vedere andiamo a mettere insieme quelle due parti ok ok e entra esattamente come un guanto e quindi ecco adesso andiamo inserire le viti e gioco è fatto e una volta montato guardate perfetto al millimetro quindi sì sono io un imbranato ok ultimi due viti ragazzi adesso non c'è resta che andare a collegare il nostro cavo in questo modo e andare a provare questo corvo il new tech pare che ci devono essere dentro anche probabilmente anche delle no non ci sono perché qui vedo che ci sono anche dei fianchettini di cartone però non credo che non ci sono qui dentro non credo che si ricavino da questo non c'è null'altro andiamo a provare questo sint sentiamo finalmente come suona bene ragazzi ci siamo eccolo qua allora purtroppo c'è un inconveniente perché ho detto che ci voleva un cavo che è questo che va sul meeting e poi essere collegato a qualsiasi sassera col media out ok anche alla vostra dove per poter volessere seguenza da purtroppo questo cavo non funziona ci sta che questi cavi presi in amazon queste cinistere qualche volta non funzionano devo trovare il cavo che funziona ci vuole quello tipo che hai in dotazione il micro freak dell'arturia con quello funzionerebbe un cavo e ci funziona quindi purtroppo questa cosa non ve la posso far vedere magari un'altra volta e la mettiamo un attimo da una parte nel frattempo ho collegato questo alla via dove che sta registrando basterà collegarlo per alimentarlo con un normalissimo alimentatore usb quelli che si usano vediamo che succede ok funziona c'è una cosa che voglio farvi vedere prima di iniziare se noi stacchiamo premiamo il tasto reverb ok entriamo in un sottomenu qui ruotando si va a selezionare il canale midi che tra varie cose i vari canali midi che possiamo selezionare quindi l'uno zero in questo caso era sullo zero vediamo un po se tutte volte funziona perché non era sul canale midi giusto questo era sull'uno questo era sul 2 perché il numero non corrisponde al canale midi effettivo lo 0 l'1 l'1 e il 2 e così via ma avanti ci sono delle lettere che corrispondono al 15 la 16 ma è una cosa un po particolare andiamo a normalizzare andiamo un po e andiamo a questo punto a collegare un po midi out la faccio rivedere media out non funziona vero peccato vero peccato mettiamo da parte togliamo questo e vediamo un po le funzioni di questo ciclo sintetizzatore che gli ho dato un'ascoltata prima di attaccare per capire come funzionava per continuare il video è simpatico devo dire simpatico dice che ha lo stesso oscillatore e il monolog quindi vediamo un attimo qui si possa selezionare forme d'onda e filtri tipo di filtri lo passe a due poli quattro poli sviluppa dsr vediamo sto oscillatore vediamo altre forme d'onda anche il delay accendiamolo ci sono diversi di epetti ci sono diversi tipi di delay o l'arpeggio e un po o Grazie a tutti. Anche la lampezza dell'oscillatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo un po' l'appiaggiatore cosa fa quest'altro. Bello! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Credo che queste siano delle sequenze che poi premendola rimangono lanciate. Facciamo questa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si potevano fare delle bellissime cose, soprattutto questa che ha addirittura le sequenze, ha i vari pattern memorizzati, arpeggiatori, c'ha di tutto, utilizzando solo uno di questi, poi sequenziandolo anche con la dubber. Sicuramente si ottiene qualcosa di qua. Si ottiene qualcosa di molto interessante. Farò un piccolo progettino e poi ve lo farò vedere quando finalmente riuscirò a trovare un cavo che funziona per poterlo collegare al computer. Perché purtroppo qui è solo alimentazione e se era usb era fatta, insomma non c'era problemi. Anche il chorus. Ovviamente è insuonabile con questa tastiera con delle dita così grosse, però per andare a finire sugli arpeggiatori che mi piacciono, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' da capire, l'arpeggiatore combinando questi tasti cambia, come dire, è abbastanza creativo. Prendiamo un po' i vari oscillatori. 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 Accipicchia però ragazzi. Carino veramente. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti